Ese rupeo. Convegno sulla carta dei diritti dei figli dei genitori separati. Si parla dei gruppi di parola creati per aiutare i minori e della proposta di legge che vuole cambiare le regole delle separazioni. Giampiano Amandola. Un dramma bambino di massa. Sono circa 100.000 in Piemonte i figli minori di genitori separati o divorziati. Disegna la tua faccia dopo che hai saputo che papà e mamma si sono separati. Questo chiedono i gruppi di parola che Autorità Garante dei diritti dei figli e regioni hanno creato per rispettare la carta dei diritti dei figli. Si sa che la civiltà di un paese si vede da come tratta i più piccoli, i più deboli. Una grandissima attenzione sempre e comunque ai propri figli anche in una situazione di separazione con una conflittualità elevata. Al centro i figli dunque. L'autorità Garante vede anche bene la proposta di legge che vuole i bimbi affidati quando si può al padre e alla madre per tempi uguali. La cosiddetta bigenitorialità. La bigenitorialità non è parità di tempo presso entrambi i genitori ma è parità di attenzione e di cura nei confronti dei ragazzi. Loro, i bambini, si sentono in colpa perché mamma e papà si sono divisi, sono intristiti, arrabbiati. Qualcuno non fermerà mai una famiglia per evitare il dramma della separazione. Qualcuno non vorrà fare figli per evitare di dar loro il dolore della famiglia che si rompe. Ma quando entrano in questi gruppi di parola, in Piemonte sono 38, si scopre il modo di vedere il mondo e la famiglia rotta da parte del bambino per andare oltre. Ad esempio vogliono aiutare il genitore in difficoltà. Lui si sente incaricato di mettere una gru che è vicino alla casa della mamma per poterla poi dopo, come dire, restaurare anche quella. Diventano concretissimi, saggi, crudeli davanti ai nuovi fidanzati dei genitori. Hanno disegnato dei cartelloni dove ci sono delle signore stupende, bionde, dove ci sono qualche d'uno che ha gli occhi un po' arrabbiati, qualche brufolo in più, il cappello in testa.